Prima di questa crisi in Italia il discorso politico a destra come a sinistra era dominato da sfumature populiste. Uno dei caratteri del populismo è mettere in discussione l'idea che l'attività di governo debba in qualche modo essere accordata anche al punto di vista di esperti, di persone che dispongono di competenze specifiche molto rilevanti e la cui opinione deve in qualche modo contare di più nel momento in cui si effettuano scelte per tutta la popolazione di quanto invece non lo faccia l'opinione di chi esperto non è. Questo è cambiato in Italia nelle ultime settimane, abbiamo visto un'evoluzione molto rapida anche delle stesse forze politiche che in passato ci dicevano che uno vale uno in una direzione molto diversa. Siamo, se vogliamo dirlo con una battuta dal sapore amaro, un po' al tutto il potere ai virologi. Questo continuerà? Le crisi di solito rafforzano i governi perché premiano quel pezzo di classe politica che è nelle condizioni di poter prendere decisioni e più uno sembra risoluto maggiore di solito è l'apprezzamento da parte della popolazione. Questo apprezzamento però potrà continuare nel tempo, potrà protrarsi solo nella misura in cui le misure prese dimostreranno di avere un effetto, nella misura in cui la curva del contagio effettivamente si appiattirà e nella misura in cui riusciremo a tornare a un qualche tipo di normalità. le difficoltà nella selezione della classe dirigente che il nostro paese ha sperimentato negli ultimi anni si riproporranno alla fine di questa crisi, si riproporranno forse in modo ancora più drammatico. Noi sappiamo che misure come quelle che abbiamo visto in questi giorni senza precedenti nella storia della democrazia non hanno, diciamo così, un intento liberticida, però possono avere un effetto liberticida nel momento in cui proseguano anche dopo la fine dell'emergenza. Ci è già stato detto la normalità alla quale perverremo sarà diversa da quella che conoscevamo, questo è chiaro, ma serve, servirà una classe dirigente in grado di riportare gli italiani a una situazione nella quale possano godere più pienamente dei propri diritti. Come trovarla? Dove trovarla? Dentro o fuori i partiti che oggi esistono e occupano il centro della scena politica? Questo è il grande interrogativo col quale tutti dovremo confrontarci nei mesi a venire.